Bentornato negli studi di Temporadio a Germano Sigurtà che è titolare dell'omonimo Emporio, l'Emporio Sigurtà di Via Rassica numero 22 a Lonato. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Noi ovviamente gli ascoltatori li invitiamo sempre a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo che il numero per mandare gli sms, messaggi whatsapp è il 348-318-8339. Allora, dunque, iniziamo con quello che chiamiamo bollettino meteo, cioè che cosa bisogna fare in giardino, nel prato, angolo verde, quello che dir si voglia, in base alle condizioni meteo, tenendo conto che domenica ci sarà un peggioramento. Peggioramento in che senso? Nel senso che piove. Acqua? Insomma, nottunno normalmente sì, ci sta dai. Da quello che vediamo, le proiezioni di oggi, ci sarà il nord della Lombardia, brutto proprio, il sud della Lombardia, ancora cielo sereno, noi siamo al confine tra nord e sud. Siamo nel centro. Al massimo, come si dice, lo lasciamo scendere, insomma, ecco, eventualmente. Lasciamo scendere, eventualmente, esatto. Bene, dunque, sicuramente è stato un bellissimo settembre, perché ormai siamo l'1 di ottobre, se non sbaglio. Esatto. Salvo delle precipitazioni intense in alcune giornate, nostro verde, nostro verde, parliamo del nostro prato, sempre, tanto per così, diciamo, iniziare. Possiamo tranquillamente arieggiarlo, siamo ancora in tempo ancora per seminare, visto che comunque le temperature sono molto alte, tra virgolette, per essere la stagione. Ho clienti che hanno seminato 7-10 giorni fa e già si vedono l'erba alta 2-3 centimetri, quindi possiamo stare tranquilli. Per riseminare, intendo ripristinare, è della serie grattiamo, concimiamo, seminiamo, mettiamo nel terriccio, soprattutto nelle aree danneggiate, o meglio, il fungo, la poca acqua che è arrivata, eccetera, 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 eccetera. Sicuramente se dovete seminare o pensate di rifare delle zone intere o fare a nuovo un giardino è sicuramente la stagione ideale questa, perché comunque nasce il nostro prato seminato a nuovo e le infestanti, visto il freddo, non germino, non nascono. Quindi abbiamo il vantaggio che il nostro prato non si infesta, non si riempie di erbacce durante la crescita e questa primavera, quando lui è già bello robusto, è molto più competitivo nei confronti delle nostre infestanti. Quindi sicuramente è il periodo per rigenerare, trasseminare, seminare, posare la zolla e chiaramente, come vado sempre ripetendo, l'altro punto cardinale per avere il nostro prato bello e che duri negli anni è la verifica dell'impianto di irrigazione. Non ha nessun senso non verificarlo, non sistemarlo, non fare quello che c'è da fare, quindi non scavare adesso per poi trovarsi a giugno dell'anno prossimo con esigenze di irrigazione o meglio delle zone magari che non si bagnavano prima o delle perdite o delle cose che non si sono verificate oggi e che l'anno prossimo dobbiamo poi verificare. Quindi scavare e distruggere il bel prato che avete fatto quest'anno. Quindi sicuramente la prima cosa è verificare che sia tutto a posto, impianto perfetto, in maniera che l'anno prossimo quando li accendete irriga correttamente, uniformemente sulla superficie e il vostro prato rimane bello. Chiaramente con cimazioni e vi dicendo, ma poi magari lo vediamo, quelli autunnali, quelli invernali, come si dice, le vediamo magari nella prossima puntata. Anche perché spiegavala volta scorsa, due volte fa, non mi ricordo che a seconda della stagione, cioè in certi periodi o meglio una... Allora, ribadisco e affermo, non ci sono concimi che bruciano, o comunque i concimi bruciano sedati in quantità eccessive e soprattutto non all'intercessione. L'intercessione vuol dire che il concime deve essere ceduto lentamente al vostro prato nei due o tre mesi. E ci sono i concimi per l'estate e per l'inverno e per la semina, tre tipologie di concimi diversi che vanno utilizzati a seconda della stagione e nei dosaggi previsti. Comunque tutte queste informazioni tecniche ve le do tranquillamente in negozio, quindi... No, però è molto importante. Una consulenza che poi al momento, in base alla superficie, alla situazione, alle foto che mi portate del prato, quindi verifico le condizioni, anche così proprio visivamente, eccetera. Lì si decide che tipo di interventi fare e come muoversi. Chiaramente anche per quanto riguarda le dritte sull'impianto di irrigazione, materiale ne abbiamo da vendere, nel vero senso della parola, per cui riusciamo a mettere in condizioni perfette il prato per fare... Anche perché comunque adesso bisogna irrigare, perché se effettivamente piove, ok, ma altrimenti se vogliamo far nascere il nostro prato, dobbiamo comunque irrigare. E correttamente, se vogliamo un acquisto uniforme. Quindi le quattro cose fondamentali. Potature no, è presto, lasciamo cadere le foglie a tutte le piante, perché è fondamentale per il ciclo vegetativo di quelle delle piante a foglia caduca, chiaramente. Se vogliamo potare le siepi, potature di genere si possono fare tranquillamente. Per le concimazioni, come dicevo prima, aspettiamo, aspettiamo tranquillamente l'inverno, novembre, dicembre, fino a febbraio, siamo tranquillamente in tempo. Raccolto, raccogliamo, si sta raccogliando l'uva, olive, probabilmente le avete già raccolte, se le avevate, quest'anno è stato un anno buio, nero, soprattutto sul lago di Garda, non si è prodotto quasi niente. Praticamente niente, sì. E potete tranquillamente lavorare il vostro orto, perché comunque qualche cosa si può ancora seminare, insomma, ecco, piantine e soprattutto le classiche radicchio rosso, trevigiano, quelle classiche insalate, invernali praticamente. Certo, e questo appunto è una cosa. Comunque hai detto una cosa fondamentale, ci sono concimi a seconda delle stagioni, chiedete all'esperto, è facile andare al supermercato per dire si prende, ecco, invece, attenzione perché... Beh, nel momento in cui ci sono prodotti, nel momento giusto, nei tempi giusti e professionali, si hanno risultati buoni e se non eccellenti praticamente. E' soddisfazione, in fin dei conti. Cambiando argomento, invece, oltre all'attrezzatura da giardinaggio, anche professionale, semiprofessionale, ma sempre di ottima qualità, che si trova all'Emporia Sicurtà, si trova anche tutta l'attrezzatura per gli animali, cani, gatti, criceti, eccetera, pesci, d'acquari, così via, ma anche alimentazione. Allora, parliamo di alimentazione animali. Devo dire che l'abbiamo trascurata nelle ultime puntate, o lasciata in ultima, e quindi distrattata, stralasciata, ridotta, eccetera, eccetera. E, come vado dicendo da sempre, da, posso dire tranquillamente, da 30 anni a questa parte, nel momento in cui noi risolviamo il problema, tra virgolette, alimentazione del vostro animale, cane, gatto, coniglio, animale che sia, abbiamo risolto il 95% delle sue problematiche. Il resto, chiaramente, parliamo di pulci, parliamo di, eventualmente, di funghi, parliamo di cosettine, diciamo, marginali, salvo malattie, per carità, ode, eccetera. Quello, chiaramente, è un discorso che va, esula, diciamo, da, da quello poi che è di mia competenza, eh, di mia competenza. E, alimenti, sì, si chiamano alimenti, si chiamano più mangimi, ma, perché? Perché poi, in questa evoluzione di trentennale, eh, c'è stata una corsa, e, per fortuna, al miglioramento di quelli che sono queste benedette crocchette. Io parlo di crocchette, sono affezionato alle crocchette, i croccantini, e via dicendo, ma che ritengo ancora tutt'oggi l'alimento più completo, più bilanciato, più sicuro, più, eh, che conserva meglio le sue caratteristiche organolettiche, perché la crocchetta è studiata in funzione, viene estrusa, è un parola un po' strana, ma è un macchinario che a caldo fa queste crocchette, le, 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 le trafila, diciamo, come la pasta, e nello stesso tempo le cuoce. Il velo attorno, un ticcio e umidizio che vedete attorno, è semplicemente una spruzzata di appetizzante, quello che rende più buona la crocchetta per il vostro cane. Tutti gli elementi sono racchiusi all'interno, racchiusi all'interno e quindi si conservano molto meglio, sia da quando aprite il sacco, ma anche quando andate a somministrare il vostro alimento nella ciotola del vostro cane. Ma tutti sappiamo che il secco, anche gli alimenti umani, si essicano per conservare. Si conservano meglio, vitamine comprese, vi dicendo, perché vengono poi a volte anche quelle con dei procedimenti particolari. Avete notato che se anche il vostro cane non vi mangia le crocchette la mattina e le trovate la sera, sono ancora perfette. Chiaramente a lungo, due, tre, cinque giorni, una certa ossidazione ce l'abbiamo, i grassi cominciano un attimino a cose, ma se non mangia per tre, quattro giorni andiamo dal veterinario, perché se non mangia ha dei grossi problemi. O proprio la crocchetta non vuol saperne. Quindi, ecco, la cosa fondamentale da capire e già da attuare, scusate, è un alimento secco, continua al massimo un 10-11% di umidità, vuol dire che se comprato un chilo di secco, comprate praticamente 9 etti e 90 di materia secca, il resto è umidità. Di conseguenza, sempre ciotola acqua fresca a fianco, perché quello che non porta dentro con l'alimentazione lo deve poi bere a fianco, soprattutto il gatto, ma anche il cane, chiaramente. Rispetto all'umido, perché l'umido comunque ha un volume enorme, anche se uno non pensa che l'altro sia il modo di alimentare i cani. Però c'è una grossa differenza, nell'80% dei casi, l'umido, la classica scatoletta che trovate sugli scaffali in giro, oltre a contenere l'80% di umidità, quindi un 20% di secco, su un chilo di roba portiamo a casa 80% di acqua e 20% di secco. Questa è già una differenza base anche dal punto di vista economico, perché le dosi sono tre volte di più rispetto al secco, quindi non è più economico. E se andate a leggere bene l'etichetta c'è scritto alimento complementare, vuol dire che non è un alimento completo, vuol dire che la scatoletta non basta data a sé nell'alimentazione, va integrata o con del riso, con della pasta, con altre cose che non vengono chiaramente specificate sull'etichetta. Gli alimenti completi in scatoletta non costano poco come quelli come gli altri. E quindi è vero, la scatoletta costa, non so, dico un euro, 80 centesimi, 4 retti, ma è il prodotto quasi più anti-economico e poco completo rispetto al secco. E nel momento in cui lo mettete nella ciotola e ce la lasciate per un'ora, diventa nera, diventa brutta e spesso lo intiere il gatto e il cane non ve lo mangia più. A tirare le mosche. E certo, poi d'estate, poi peggio ancora, e via dicendo. Allora, ci fermiamo un attimino con Germano Sigurtà, titolare dell'Emporio, Sigurtà di Via Rassica a Lonato, ci troviamo tra un po' di minuti. Chi dona il sangue può sentirsi orgoglioso di se stesso, poiché con il suo gesto ha salvato una... In compagnia di Germano Sigurtà, titolare dell'Emporio, Sigurtà di Via Rassica, numero 22 a Lonato, la strada che collega Lonato a Castiglione passando per esenta, tanto per intenderci per chi viene da Lonato sulla destra, per chi viene da Castiglione sulla sinistra. Allora, questa è la seconda parte di Filo Diretto. Stiamo parlando dell'alimentazione dei cani, vede che c'è anche un messaggio, e scusi Germano, potrebbe parlare dell'alimentazione dei cani, lo stiamo facendo. Siete che era arrivato prima. Dunque, facciamo un piccolo riassunto. Nel 90% dei casi l'alimento secco è completo. Data la sua dose, in base al peso, che è riportata nel retro della confezione, avete la tabella, in base al peso avete i grammi da somministrare e la quantità normalmente è al giorno, non per pasto. Cani di grossa taglia, vi consiglio spassionatamente quella dose, dividela anche in tre volte, mattina, mezzogiorno e sera, proprio perché i molossoidi, i cani di grossa taglia, è meglio non riempirli troppo lo stomaco, per evitare torsioni dello stomaco e problemi digestivi, e via dicendo. Quindi, se trovate tre etti, 100, 100, 100. La stessa cosa che si fa nei cuccioli, consigliate anche quattro pasti al giorno, fino a sei e sette mesi. L'umido, per concludere l'argomento umido, come dicevo, spesso volentieri non è completo. Spesso volentieri è sicuramente più appetibile, piace di più al cane, lo mangia molto più volentieri, perché comunque è umido e piace più, ma spesso volentieri si abita a questo gusto e il secco non ve lo vuole più mangiare, che è il classico problema ricorrente, soprattutto nei gatti poi ti fanno morire. Siamo arrivati a un'infinità di gusti anche di umido, perché anche su quello questi sono difficili. Quindi fondamentalmente, se tendenzialmente li abituiamo a mangiare secco, avremo sicuramente molti meno problemi, eccetera. Si stanca, cambiamo gusto, magari dal pollo passiamo al salmone, dal salmone possiamo passare a cavallo, al cavallo possiamo passare al maiale, ormai le aziende si sono sbizzarrite in ogni senso. Quindi, per esperienza vi dico, secco sicuramente la soluzione è ideale. Nel secco abbiamo una suddivisione enorme ormai, base alla taglia, c'è la crocchetta piccola per il pincerino, come c'è la crocchetta gigante per l'alano, due bocche diverse, taglia diversa, dimensioni diverse. Muso diverso. Muso diverso, masticazione diversa. Un boxer ha una crocchetta diversa dal luto. Esattamente, precisamente, fasi di vita, cucciolo o addirittura da svezzare, perché magari purtroppo la mamma ha poco latte o è stato abbandonato, eccetera, eccetera. La crescita, che è in funzione alla taglia, il pincer a sei mesi conclude la sua crescita, l'alano o un pastore San Bernardo la conclude a diciotto mesi, quindi il puppy e il junior lo dobbiamo portare fino a quell'età lì, non come quello del pincer. Anziani, cani anziani che hanno delle problematiche particolari, vengono integrati con degli integratori appunto che gli aiutano per le ossa, le articolazioni, e vi dicendo, quindi ogni età ha la sua problematica. Obesity, cani che sono in sovrappeso legati a una serie di motivi, che una delle classiche cose sono la sterilizzazione, che li porta all'obesità, quindi ci sono alimenti specifici per gli sterilizzati o addirittura light, vi dicendo. Diete, diete e prescrizioni medico-veterinarie, chiaramente ve le possiamo dare anche a noi, perché le classiche cose, patologie normali, le si riconoscono e si possono tranquillamente curare anche, curare tra virgolette con mangimi specifici, o spesso vengono appunto prescritte al veterinario, perché è comunque meglio fare un'analisi e un check-up completo dell'animale, che è, su consiglio veterinario, azzeccare meglio quella che è la... E poi la cura andate a prendere da Germano. Esattamente, poi noi abbiamo quello che vi serve. Questo è un po' il panorama. E, come dicevo prima, risolviamo la prima... La prima, si può fare da mangiare in casa, si può cuocere, si può spadellare, si può fare questa cosa, ma prima di centrare veramente le vostre esigenze al cane, vi posso garantire che passano dei mesi di tentativi e di integrazioni, vi dicendo, ma alla fine il risultato abbiamo visto che è anche sfiancante oltretutto. Poi, allora, leggo alcuni messaggi. Il mio cane a volte vomita per dinvirindina. Cosa può essere? Germano, gliene associo un altro. Io metto le crocchette al gatto e le imbevo con un poco di umido. Va bene? Ha crocchette umido per gatti? Se ce l'ha anche per gatto, oltre che per cano. Allora, il fatto che vomiti, bisognerebbe capire cosa vomita. Se mangia e vomita le crocchette intere, vuol dire che il cane sta ingurgitando, sta deglutendo le crocchette intere. Se le trova nell'intestino, lo stomaco lui fa fatica a digerire e poi le vomita. E le vomita intere, le vedete proprio purtroppo lì, belle intere. Vuol dire che la crocchetta è troppo piccola, dobbiamo mettergliela più grossa in maniera tale che lo obblighiamo a masticare. Lui le rompe, fa la prima digestione e le digerisce. Nel secondo caso, l'umido integrato, se proprio non vuole mangiare di secco a sé, ci sta una cucchiaiata, un cucchiaino, una mescolatina. Se è l'unico traverso il sistema per fargliele mangiare, va bene, non c'è problema. E abbiamo tutte e due, chiaramente, abbondanti. Allora, da quando do le crocchette che mi hai venduto, dice un altro messaggio, il cane ha ripreso peso e ha il pelo bello. Grazie del consiglio, Begnaro. Grazie mille all'ascoltatore. Ecco, questa è una piacevole conferma, ospitatrice, non so, rimanevole al vago, non ho idea di che sia. È una conferma di quello che vi sto dicendo, praticamente. Ecco, poi aggiungo un'altra nota, ma magari sentiamo qua altri, come si dice, altri messaggi. Sono molto sul giardinaggio, adesso le sto cercando. Ecco, intanto che cerca anche il giardinaggio, vi dicevo un'altra cosa, il mondo è pieno di secco, di alimenti secchi e di alimenti per cani. Noi abbiamo fatto la politica della qualità e del risultato e della soddisfazione come il nostro, scusate, cliente barra ascoltatore di prima. E ci ha sempre premiato. Non inseguite semplicemente il prezzo, perché comunque il prezzo, spesso e volentieri, come in tutte le cose, non è quello che dà la qualità. Che non sa, anche le tiera per gatti. Ora so che la danno anche biodegradabile, ce l'ha o la procura? Assolutamente sì. La compriamo direttamente da un'azienda che fa solo sabbie, comprese quelle biodegradabili. Vuol dire che... Anche si botta nel water, praticamente. Esattamente, chiaramente non tutti in un botto solo, altrimenti mi intassate magari il water. Beh, meglio precisare, perché non si stava nella vita. Ma detto questo, sì, si può smaltire tranquillamente o nell'umido o nel water, che è molto più comodo di una sabbia normale. Abbiamo anche quelle in cristalli di silice, eccetera, eccetera. Non ho meno una trentina di tipi. Allora, per quanto riguarda gli animali, le leggo... Pesci d'acquario mi ha detto che ne ha, ma anche acquari. Tartarughine d'acqua è vero che sono vietati, allora, sceglierò un acquario, però è una consecutiva, con dei pesci. È vero che c'è il pulitore, il pesce pulitore, forse? Ora, acquari ne abbiamo di acqua fredda, acqua calda, vuol dire tropicali, in abbondanza, abbiamo svariate vasche, dove potete sbizzarrirvi, sì nei colori, che nelle varietà. Pesci pulitori presenti. Per quanto riguarda... Scusa, cosa chiedeva prima? Le tartarughine, se sono vietate. Sì, ne abbiamo. Quelle vietate sono le scripta scripta, quelle da quelle orecchie rosse, perché ce n'era un'invasione enorme e a quanto pare si adattava talmente bene al nostro clima che mollata poi nei laghetti infestava e cambiava l'ecosistema praticamente di dove veniva lasciata. Queste sono vendibili, le abbiamo nuovamente vendute anche ieri, quindi non c'è nessun problema. Tartarughine, anche bene. Poi ci sono domande sul giardinaggio, dice, lei segue solo pensionati col giardino o anche in un agricoltore perché ho bisogno di lettiera per il bestiame? Ah, sì. Allora, semplicemente mio padre nel 71 ha iniziato a servire le aziende agricole e lo facciamo tutt'oggi. E chiaramente il miglior è un po' inferiore perché il babbo ormai è oltre a settantenne per cui non segue più le cascine in maniera, diciamo, a tappeto però è quello che le serve. Non c'è problema, abbiamo rivenditori carli, quindi paglia pellettata, fieno, abbiamo di tutto e siamo in condizione anche di servire, abbiamo anche i mezzi per servirvi. Sui animali, ancora il gatto si strappa il pelo, possibile ci siano ancora le pulci e un altro, dice, erba per conigli, nani, ne ha? Più che erba e sieno, sì, assolutamente sì. Se il gatto si strappa vuol dire che veramente ha un fastidio insopportabile. mandiamo da veterinario, mandiamo da veterinario perché lì il problema può essere serio e va preso subito. Poi, ancora, scusi, ma perché non ho olive per dindirindina? Quest'anno niente, proprio niente, e poi ancora di consulenza, da consulenza per il giardino, però sono di San Benedetto e Lugana, viene fin qui, dice un ascoltatore, e ne metto un altro ancora. Ciao Germano, che concime, metto i limoni in questo periodo? Allora, le olive, è tristissima stagione, praticamente morta, se vuol dire. Perché ero un po' arrabbiato, diciamo, quello che rischia il messaggio. Ha ragione, sono arrabbiato anch'io perché le mie sette piante che l'anno scorso hanno prodotto, alla fine, mi hanno portato a casa 80-90 litri di olio, quest'anno non ho raccolto un'oliva, quindi anch'io non sono sicuramente felice della situazione. Purtroppo, anche gli anziani con cui mi consulto che coltivano le olivi da una vita, mi dicono primavera troppo asciutta e anche apicultori incazzati neri perché in quella stagione lì non hanno fatto miele, non essendoci stata fioritura corretta, poco polline, poco pollite, non c'è stata l'impollinazione e quindi niente oliva. Non dipende da noi in sintesi, ecco, fondamentalmente. A proposito, anche qua per Dindirindina ho un olivo semisecco se porto una foto, mi sai dire che cosa ha, appunto di domanda? Sì, assolutamente, penso proprio, insomma, ecco, vogliamo di capire qual è il problema, per il signore di San Benedetto non c'è nessun problema, io abito a Puzzolengo City e quindi se devo arrivare lì e dare un'occhiata al prato la mattina o non tornare la sera, si resta un po' buio, ma comunque un sopralluogo non c'è problema, si può fare, manchiamo il negozio che ci si mette d'accordo. Sì, sì, benissimo. Allora, ho poco spazio, vorrei fare un orticello in vaso, cosa consiglia? Ah, giusto, è bello, cosa consiglia? Poi un giorno, Germano, che fuori, che fiori posso mettere in questo periodo? Fiori c'è ben poco, adesso penso ciclamini, credo, sarà il problema nel periodo di ciclamini e basta. L'inverno, purtroppo, all'esterno non c'è niente che resiste. E' ordo in vaso? Vaso, vaso, bisogna fare una fioriera, bisogna mettere un po' di terra, perché il vaso, chiaramente il vasettino va a 10 centimetri se fa poco, però in fioriera col suo terriccio bio, eccetera, si può fare quello che si vuole, la gente che quest'estate mi ha fatto i pomodori, le melanzane, l'insalata, tranquillamente, insomma, ecco, certo, produzione neanche carina, perché alla fine il terriccio è completo e quindi si può fare tranquillamente. Poi, scusi Germano, elettrosega a batteria, ne ha e un altro dice ha le cesoie elettroassistite. Assolutamente sì, tutte e due presenti. Perfetto, e poi, sicurità, salve, legna ne hai? Quest'anno non consegniamo, quest'anno vendiamo solo in negozio, la scelta principale è legata al fatto che c'è una scarsità enorme, non riesco a trovarne, ho trovato qualche bancale, ma lo venderemo al dettaglio, lì come facciamo sempre, per chi fa la grigliata e cose del genere, ma non consegniamo, quindi non consegnando, salvo che uno venga a prendere sul bancale, ma poi, chiaramente lo scarico è un po' più complicato. Ebbè, ovvio. Allora, siamo in chiusura, noi ringraziamo Germano Sicurtà, titolare del Emporio Sicurtà di Via Rassica 22 a Lonato, abbiamo anche un numero di telefono? Assolutamente sì, e con calma e piano, perché a volte anche io alla radio non riesco a beccare i numeri, 030 913 05 21 e un grazie e buona giornata e buon weekend. Grazie.